bene buonasera scusate ci sono stati alcuni minuti per capire esattamente come funzionava questa diretta e adesso uso il telefono e quindi forse mi vedrete un po in movimento ma pazienza quindi adesso sono qui per presentare una serata che avrà luogo mercoledì 9 settembre presso il chiostro sesto o della grande guerra presso il cimitero la certosa di bologna il concerto è a cura della corale quadrivium ed è intitolato il melodramma nell'ottocento parole e musica del risorgimento l'opera lirica domina la vita musicale del 1800 ed è la principale fonte diciamo di intrattenimento ma è anche un elemento di unità l'italia era allora divisa ma l'opera circolava liberamente in tutti gli stati non solo la la stessa l'opera veniva rappresentata nello stesso modo i cantanti e le opere giravano senza problemi attraverso gli stati e se un'opera aveva successo veniva rappresentata da nord a sud e gli impresari addirittura avevano la giurisdizione su teatri in stati diversi quindi l'opera era diffusissima su tutto il territorio nazionale e l'impresario era quasi sempre la persona che si occupava di organizzare questi spettacoli lui chiamava librettisti e compositori chiedeva nuove opere ora presentava opere repliche di opere già già viste le organizzava in un certo periodo dell'anno e questa era la stagione teatrale lui e l'impresario lo faceva per i teatri ma non era un imprenditore come possiamo intenderlo oggi possiamo dire che che è più che fosse più un fornitore di servizi cioè lui aveva i soldi per fare queste queste opere e si occupava di tutto chi dava i soldi chi finanziava i teatri allora i teatri presenti nei regni erano finanziati direttamente dalla corte o da dalla municipalità se non c'era il regno oppure da società di nobiluomini di nobili che avevano la proprietà dei palchi quindi con questi soldi si riuscivano a mettere in scena tante opere che poi giravano se avevano successo in tutto il territorio nazionale e quindi si può dire che durante l'ottocento l'opera era veramente un affare di stato perché era finanziata dalle classi dominanti ma non solo era finanziata ma era anche controllata perché l'opera aveva era uno strumento di consenso di controllo sociale e anche di affermazione politica come oggi è la televisione quindi il controllo era molto importante da parte delle autorità e i regni diciamo le corti lo facevano direttamente invece negli altri posti vennero creati delle organismi preposti a questo lavoro questi organismi che erano che lavoravano anche insieme alla polizia controllavano la parte amministrativa ma soprattutto insieme alla polizia controllavano e imponevano dei veti e quindi applicavano la censura sia politica che sui testi quindi morale diciamo allora quindi abbiamo detto che i teatri sono tantissimi ne vengono costruiti tantissimi quindi adesso vi faccio un breve accenno al teatro all'italiana il teatro all'italiana è un teatro in cui la sala è a forma di cavallo davanti al palcoscenico naturalmente la sala si chiama platea vi è un ordine di palchi intorno alla platea a ferro di cavallo appunto che sono divisi tra loro ci sono vari ordini di palchi cioè i piani diciamo quindi primo secondo terzo quarto ordine e poi nell'ultimo ordine diciamo non c'è la suddivisione tra i palchi ma è una unica galleria quindi nel teatro erano praticamente trovavano posto seppur separati tutti i ceti sociali nel secondo ordine per esempio c'erano i nobili c'era il palco reale se c'era il re oppure c'erano le più alte autorità ed era anche più grande questo palco poi nella platea c'erano i servitori dello stato i borghesi e all'ultimo piano in questa galleria che appunto non aveva divisori c'erano e c'era il popolo allora cosa succede nei primi decenni dell'ottocento che durante le rappresentazioni ogni accenno a parole come patria libertà come invasore tirannide eccetera veniva sottolineata dagli spettatori con applausi e con rumoreggiamenti e i brani dei compositori rossini bellini donizzetti erano se avevano al loro interno queste parole venivano presi dai patrioti e dal popolo e per diventare come la colonna sonora diciamo del risorgimento di quel periodo nel in questi anni giuseppe mazzini esattamente nel 1836 scrive un saggio la filosofia della musica in questo saggio mazzini chiede spera che ci sia l'emancipazione dal melodramma amoroso lui spera che il melodramma invece possa diventare uno strumento sociale e politico e che possa ispirare quei sentimenti necessari per la costruzione di una nazione unita indipendente libera e anche repubblicana naturalmente per giuseppe mazzini e quindi qui in questo saggio lui si domanda anche chi può essere quel compositore che è in grado di far entrare diciamo il contemporaneo dentro la narrazione operistica sicuramente non rossini sicuramente non bollini forse lui dice donizzetti perché aveva sentito un'opera di donizzetti e che gli era piaciuta molto maria infalliero e quindi immagina che potrebbe essere caetano donizzetti in realtà donizzetti non diventerà un compositore legato al risorgimento ma lo diventerà pochissimi anni dopo giuseppe verdi giuseppe verdi pochi anni dopo la scrittura insomma la stesura di questo libro di mazzini si trova a milano a 29 anni e appena ha subito gravi lutti in famiglia ha perso in poco tempo la moglie e due figli la sua seconda opera è stata un grande in successo e decide di smettere di scrivere l'impresario morelli insiste a che lui riprenda e gli fornisce un libretto un nuovo libretto all'inizio il libro verde non ne vuole sapere poi si appassiona a questo libretto questo libretto parla di un popolo oppresso parla di un popolo esule il popolo ebreo che sogna la patria perduta questa opera è Nabucco Nabucco comincia ad avere successo secondo i racconti dell'epoca comincia ad avere successo ancora prima delle rappresentazioni poiché i cantanti e gli strumentisti sono entusiasti di questa musica una musica energica forte piena di passione e anche con tanti cori e quindi Nabucco piace a chi lo interpreta durante le prove ma anche alle maestranze del teatro tutti quelli che lavorano nel teatro si racconta che smettessero di lavorare per assistere alle prove e quindi veramente un grandissimo successo annunciato e sarà veramente un grandissimo successo il giorno in cui verrà rappresentato al teatro alla scala di milano davanti al pubblico questo avviene nel 1842 e un grandissimo successo erano previste otto repliche ne faranno 57 questo per darvi la misura del successo straordinario e durante Nabucco il pubblico lombardo presente alla rappresentazione ascolta per la prima volta il famoso coro va pensiero un coro che tutti noi conosciamo e che appunto racconta di questo popolo presso ed esule e questo coro ha anch'esso un grandissimo successo viene addirittura replicato viene chiesto un bis e viene replicato la sera stessa diventa come un inno diciamo del risorgimento se si può dire così e ancora oggi viene ricordato per questo motivo e addirittura vista la sua fama qualcuno pensa anche di farlo diventare l'ino nazionale questo così lo dico per dovere di cronaca perché l'ino di mameli ci piace a tutti insomma non è male e allora cosa succede grandissimo successo quindi giuseppe verdi con Nabucco e con l'opera successiva i lombardi alla prima crociata e comincia diciamo a usare scusate la parola la musica in funzione politica capisce che il momento è quello non è quindi un musicista che si richiude nella propria arte ma ascolta ascolta quello che succede intorno e lo mette in musica questo periodo appunto il risorgimento così denso di emozioni di passioni pensate che due generazioni di uomini hanno perso la vita con questi ideali di patria, di libertà, di giustizia e verdi chiede il suo contributo con la sua musica e partecipò a questo periodo così importante per la nostra storia i brani più noti dedicati o che fanno riferimento alla vicenda del risorgimento sono i cori ho già citato il va pensiero di Nabucco ma cito anche o signore dal tetto latio dei lombardi alla prima crociata cito anche Patrio Pressa dal Macbeth per dire i più noti e questi cori avrebbero fatto parte del concerto di mercoledì 9 settembre alla Certosa il coro Quadrivium di Medicina avrebbe partecipato con questi brani al concerto ma le vicende legate alla pandemia ci hanno fatto così pensare che era meglio non fare questo concerto con il coro ma ci saranno i solisti che erano previsti quindi avremo i solisti che canteranno arie proprio di questo repertorio di cui vi ho parlato fino adesso per presentare questi cantanti che saranno presenti mercoledì 9 settembre ripeto alle ore 20 e 30 passo il telefono a Fulvio Massa che sarà anche colui che presenterà la serata adesso gli passo il telefono e spero che si sia sentito tutto bene dopo un inizio un po' avventuroso passo il telefono a Fulvio Massa ecco buonasera a tutti abbiamo le luci un po' diverse da come dovevano essere problemi della diretta e sì come diceva appunto Paola il programma si è praticamente focalizzato sui tre cantanti solisti e quindi abbiamo cercato di mantenere comunque un repertorio che andasse da Donizetti come voleva Mazzini a Verdi e abbiamo mantenuto tra l'altro un pezzo molto molto famoso dai Lombardi alla prima crociata appunto che è una delle opere rappresentative di Verdi e il risorgimento è un terzetto molto bello e qual valutà trascorrere e quindi avremo anche comunque conservato un pezzo importante per il risorgimento italiano. venendo ai cantanti abbiamo tre bellissime voci giovani ma già affermate nel panorama lirico è internazionale anche in quanto cominciamo col baritono che viene dal Brasile si chiama Chago Felipe Stopa è in Italia da quasi un anno è venuto per studiare in Italia e ha fatto subito dei progressi molto buoni per cui è stato preso nell'Accademia del Teatro Comunale di Bologna dove appunto seguirà il corso annuale di specializzazione lui ha già vinto diversi concorsi e ha già partecipato anche a delle rappresentazioni di opere di quali l'Elisir d'Amore, le Nozze di Figaro, l'Orchestra Senza Spine, Alduse di Bologna e quindi è una giovane promessa. poi il tenore che sarà Dave Monaco, anche lui un giovanissimo ragazzo ha solo 24 anni ma anche lui ha fermato ormai, lui ha studiato qui a Bologna però ha fatto la scuola di specializzazione al Teatro Comunale di Firenze, ha finito la scuola e ha già cominciato a debutare, ha debutato anzi allo stesso Teatro Comunale di Firenze al Maggio Musicale con l'Elisir d'Amore e Gianni Schicchi giovane promessa, già affermata in pieno. E poi abbiamo un soprano giapponese, Miwako Okamura, anche lei è venuta in Italia, era già laureata in Giappone, è venuta in Italia a specializzarsi studia col maestro Marzio Giossi e ha vinto moltissimi concorsi in Italia e ha già debutato anche lei in Traviata, Elisir d'Amore quest'anno avrebbe dovuto debuttare in marzo in una Lucia di Lammermoor che era concorso e che purtroppo è stata dovuta, si è dovuto interrompere le prove, la messa in scena di questa Lucia di Lammermoor per i motivi che sappiamo legati al Covid e quindi abbiamo l'occasione di applaudire questi tre ragazzi, il 9, vi aspettiamo, numerosi e buona serata a tutti